Il Servizio Civile Universale rappresenta non solo un'esperienza concreta nel mondo della cooperazione e della solidarietà internazionale, ma anche un percorso di 24 ore settimanali altamente formativo con cui sperimentarsi e rafforzare le proprie competenze. A dicembre era stato pubblicato il Bando 2021 per la selezione di oltre 56.000 giovani e l'Africa Chiama è presente con quattro progetti. Raffaella, chi è rivolta questa iniziativa? Allora, questa iniziativa è rivolta a tutti i giovani che hanno fra i 18 e i 29 anni non compiuti, giovani che hanno voglia di intraprendere un anno e di dedicare questo anno appunto ad un servizio importante. Noi come Africa Chiama portiamo avanti questo progetto del Servizio Civile da ormai sei anni. In questo momento abbiamo volontari in Servizio Civile sia nella nostra sede di Fano, sono due ragazzi, e sia invece nelle sedi estere, quindi in Kenya, in Tanzania e in Zambia. Com'è possibile presentare domanda? Allora, è possibile presentare domanda attraverso l'apposita piattaforma a disposizione sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile. L'Africa Chiama nell'attuale Bando ha a disposizione nove posti, di cui sei destinati ai nostri progetti all'estero e tre destinati al nostro progetto qui a Fano. La novità quest'anno è che abbiamo un posto riservato ai giovani con minore opportunità, in particolar modo ai giovani con difficoltà economica, che potranno presentare il loro ISEE in sede di presentazione della domanda. È un'opportunità unica per i giovani perché è altamente formativa sia a livello professionale che personale, e il tutto appunto con un percorso di formazione e monitoraggio costante durante i 12 mesi con un compenso mensile di 440,30 euro al mese. Quando scade il bando? Il bando scade il 26 gennaio alle ore 14, quindi è importante presentare la domanda entro i tempi perché tutte le altre non verranno prese in considerazione. Soprattutto il consiglio è quello di informarsi relativamente all'ente e al progetto, quindi ci potete contattare in qualsiasi momento. È possibile scrivere a volontariato chiocciolalafricachiama.org o telefonarci allo 0721-865159 per qualsiasi informazione. A portare la sua testimonianza oggi è Marica Borgogelli, 25enne di Fossumbrone, che presta servizio nella sede della Ollus in via Giustizia a Fano. Marica, che cosa ti ha spinto a partecipare a questo progetto? Allora, fare il servizio civile per me è stato come un trampolino di rilancio sia a livello professionale che personale, perché è comunque un'esperienza che ti permette di crescere sotto diversi punti di vista, appunto, dandoti in campo lavorativo la possibilità di formarti a tutto tondo e in campo personale di vedere diverse realtà all'infuori di quella che si è sempre abituati comunque ad incontrare. Quali sono le tue mansioni? Aiuto nell'amministrazione a gestire, ad esempio, nel sostegno a distanza, nella progettazione. Siamo coinvolti anche nei laboratori, nelle scuole e nel servizio di doposcuola. Consiglieresti il servizio? Assolutamente sì, se rientrate nella fascia di età fatelo perché è un'opportunità, secondo me, irripetibile e irrinunciabile. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS